Ciao a tutti, è stata appena pubblicata la nuova edizione aggiornata del manuale di teoria per la preparazione ai test di medicina, odontoiatria e veterinaria che si terranno a settembre. Il libro contiene tutti gli argomenti d'esame ufficiale con esempi ed esercizi risolti e commentati. Continuate a seguirci sui nostri social.